Bella ragazzi, siamo i Granas e siamo tornati con un nuovo video su GTA PAPAPAM E come molti ci hanno consigliato E tenteremo appunto di salire sul grattacielo più alto Che non so se è il più alto sinceramente E su quello più alto insomma della città Ci proveremo insomma, speriamo di riuscirci Perché no Sì, è abbastanza tosta una cosa Anche perché non ha finito il gioco quindi l'avete un po' bato Giù proviamo a buttarci giù Sali, finocchio Sono il re del mondo Muo vedi che re del mondo Faccia io Ok, allora Vedi che fai una cosa Dove buttarmi di là senza morire Ma mori Dici 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 quella che vuole non è la buona oddio corte contro la polizia all'aeroporto ehm quello lì piccolo ciclo piccolo ciclo in testa coda mamma mamma mia mamma che cazzo i cecchini io c'è quattro stelle cazzo fai no vai a posto no fatti n'è più niente a posto non c'ho l'armi perchè c'hanno un culo la metti sotto quelli ha un fame fracico metti sotto quell'altro e scendi subito cazzo si entra oh 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 cazzo ma guarda temmi se ho dovuto incastrare soppi e morì c'è un colpo e muoio un colpo e muo tocca cercare una moto regalo perchè andiamo a fare i super salti adesso facciamo la sfida la sfida freestyle io contro di te come salti sono ok c'è stai accetti la sfida eccolo oddio ma quando è arrivato si ferma in aria si ferma in aria non scendiamo no oddio bambino 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 cazzo in modo da non c'è stanno mai credo un attimo solo strada cercando si moto moto un due e tre 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 moto e non ho bene un uomo scopo ma così è stato cazzo la gente per lo cellulare cazzo cazzo una moto in giro modo in questo quartiere uo magico uo uo mamma mia uo uo arriva arriva la bomba arriva la bomba arriva la bomba è veramente stabile perfetta perfetta è perfetta occhio che piazza uo ma ho il giorno come la campagna la tua moglie per quanto riguarda un po' non è che va molto meglio l'ho grattata ho fatto scatto a primonti così quando c'è stato entro anche se eccolo eh eccolo eh non prendere le pedoni non prendere un cazzo di addio non va non va oddio girate bo quello è morto quello è morto per forza un problema si dimmi che la macchina ce la fa aspetta voglio fare una cosa voglio fare una cosa voglio fare una cosa vai è tua è tua è tua oh mio dio raffigo il mondo dall'alto sto cercando oh mio dio che sarei io boh è pronto che dai col botto e è sì che